Prima concorrente, 17 anni, arriva da Reggio Calabria Maria Saveria Minutolo Prima concorrente, 17 anni, arriva da Reggio Calabria Maria Saveria Minutolo Con il numero 2, lei proviene da Messina, 16 anni, Chiara Siciliani Grazie Chiara e si prosegue con la numero 3, 17 anni, arriva da Reggio Calabria anche lei, Martina Corigliano Grazie 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 Daniela, prossima concorrente viene da Palermo, 16 anni, Sara Quadrante Con il numero 7, pensate solo 15 anni, arriva da Palermo, Desiree Lupo Grazie Desiree Lupo, prossima concorrente proviene da Reggio Calabria, 21 anni, Francesca Tripodi Con il numero 9, 18 anni, anche lei arriva da Reggio Calabria, Francesca Gattuso Grazie Francesca Da Reggio Calabria, 17 anni, Emanuela Ventura Grazie Grazie La prossima miss a 23 anni, arriva da Reggio Calabria con il numero 11, Violetta Novikova Grazie 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 Violetta Grazie 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 La prossima miss a soli 16 anni, arriva anche lei da Reggio Calabria, si chiama Giusy Giordano, numero 15. Grazie Giusy, prossima miss proviene da Messina, 14 anni, lei la più giovane del concorso di questa serata, Claudia Cappellano. Grazie a tutti. Grazie Claudia. La prossima miss è di poco più grande, soli 15 anni, arriva anche lei da Messina, la numero 17, Giulia Impalà. Grazie a tutti. Ringraziamo Giulia. Prossima miss in gara da San Giuseppe Iato, 16 anni, Giusy Accardi. Grazie Giusy. La prossima concorrente è la numero 19, si chiama Giorgia Gambicchia, soli 18 anni, arriva da Messina. Grazie a tutti. 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 Marco, la giuria avrà un gran bel da fare, mi raggiungi al centro?